. . Marco Leherri sono pronti a trasferirsi a Frogmore Cottage. . Ma la regina Elisabetta impedisce il trasloco. Secondo quanto riferisce il Sunday Times, la sovrana ha bloccato i piani d'indipendenza dei duchi del Sussex, impedendo loro di lasciare il palazzo. . Harry e Meg avevano sperato di poter cominciare la loro vita familiare lontano dagli obblighi monarchici, prima della nascita del Royal Baby che dovrebbe avvenire a fine aprile. . Si erano perfino organizzati per far partorire Lady Markle nell'ospedale vicino a Windsor, nelle vicinanze del cottage che doveva diventare la loro casa definitiva. . Ma niente di fatto. Secondo un insider di Palazzo, il protocollo non consente quel tipo di indipendenza. . . Infatti, la regina non nega ai duchi del Sussex di trasferirsi per un certo periodo a Frogmore Cottage, ma la coppia deve mantenere la residenza a Londra. . Esattamente come fecero William e Kate quando andarono ad abitare nel Norfolk dopo la nascita del primo genito, Giorgio. . Per il momento, Harry e Meghan, che hanno sempre più problemi coi collaboratori, hanno ottenuto di essere autonomi solo nello svolgimento delle loro attività benefiche. . . La coppia ha deciso di dividersi da William e Kate Middleton e di spostare gli uffici da Kensington a Buckingham Palace. . Pare che Lady Markle non abbia preso bene l'ennesima costrizione e per consolarsi abbia deciso di organizzare un secondo baby shower proprio a casa di Elisabetta. . Una sorta di affronto dopo lo scandalo extra-lusso del party new yorkese? Questa volta sarà di dimensioni ridotte. . Probabilmente saranno presenti 6-7 persone. . . Secondo il Daily Mail ci saranno sua madre Doria Regland, Victoria Beckham, Amal Clooney e forse l'amica canadese Jessica Malroni. Mistero sulla presenza di Kate Middleton. . Meghan avrebbe voluto organizzare la festa a Frogmore Cottage, ma per i noti impedimenti non ha potuto. . Meghan Markle sta organizzando un secondo baby shower. . Secondo indiscrezioni Meghan Markle sta organizzando un secondo baby shower. . Anche se questo genere di festaggiamenti è un'usanza più americana che della famiglia reale britannica. . . Meghan Markle, che sta per avere il suo primo figlio con il principe Harry, sembra molto determinata a introdurre questa nuova tradizione a palazzo e celebrare il futuro royal baby. . Meghan Markle vola a New York per un baby shower con le amiche. . . . L'esperto della famiglia reale Russell Myers ha detto. . 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 Il primo baby shower di Meghan Markle. . 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 L'evento costellato di star americane, tra cui la già citata Serena Williams e Amal Clooney. . . . . . . . . Vuol fare un altro baby shower a Buckingham Palace. Viste le reazioni niente affatto entusiastiche che si sono scatenate sulla stampa britannica a causa del suo primo, costosissimo baby shower a stelle e strisce. La ragione reale avrebbe suggerito a Meghan Markle di evitare di farne un altro nel Regno Unito. .